presepi d'autore oltre 100 vere opere d'arte liberamente interpretate ma secondo una rigorosa lettura dei testi sacri nella chiesa di san michele a rottofreno nella cultura storica di queste giornate un'altra edizione di idea presepe al di sopra di ogni umana possibilità raccontarli in tutti la verità del natale nei paesi di mezzo mondo nella rassegna un presepio tradizionale una cascina una stalla un altro presepio meccanico con la rappresentazione di antichi mestieri presepio stile palestinese stile montano realizzato con materiali di riuso tappi fogli di giornale tutte le storie sbiadiscono con il passare dei secoli si confondono volti e colori un'impresa per quanto realizzata con tutte le facoltà dell'intelligenza e del cuore talvolta si confonde con altre imprese la natività di gesù no resta nel cuore rivive ogni anno non vogliamo avventurarci nella ricostruzione storiografica delle varie interpretazioni per capire non c'è che visitare la rassegna la magia del natale continua va oltre il giorno segnato in calendario chiede giorni pieni di impegno personale per tutti tutti i protagonisti di un presepe popolato da gente per bene popolato da gente di buona volontà